Salve, Anna da Cerignola, da Cerignola, con tutti i parenti. Sì, ho fatto una sorpresa, alcuni non me li aspettavo. Ah sì? Allora, ora ti diranno cosa devi fare in aereo, ma soprattutto in volo, ricordati, guarda a me, sorridi, sennò nel video non viene. No, 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 no. Ok? Le scene di terrore cancelliamo. Le cancelliamo, quelle le tagliamo, le censuriamo. Ok. Io sono il tuo video, noi saliamo su, ci buttiamo giù e bolla. Ok? A dopo. Bene, Anna, Anna, giusto? Ci stanno preparando. Guarda, tutto. È bellino. Ma sei stupenda. Stupenda. Stupenda, guarda, guarda. Oh, wow. Dai, se no ti renda sopporto lungo. No, va bene. Lui è il tuo pilota, Gabriele. Cos'è che devi fare? Gridare. No, guardarmi. Guardarmi e sorridere. Ok? Bene. Ma cosa c'è qua? Danger, danger, danger. Cos'è? Pericoloso. No, dai, che ci divertiamo. Ti sei portato poi tutto questo bel pubblico, qua? Eh? Una panoramica del pubblico e della bambina piccolina. Ciao. Ciao. La mamma. Anche la mamma c'è. Mamma. Tutta la famiglia. Mamma, zia, zio. Anche loro. Va bene. La nonna. La mamma. La mamma. La nonna. La zia. La cugina. E il cugino. Uno, due, tre. I prossimi quattro tandem siete voi, d'accordo? Sì. Ok, a dopo. A dopo. Ok, bravissima. Anna? A bello sguardo? Ok. Ok, a dopo. Anna! Siamo in volo. Vola. Si vola. Siamo in volo. Ok. Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti